Perché, con tutto il rispetto per l'ambiente televisivo locale, ma quando facevo il programma potevo anche parametrarmi a un livello di tv locale, mentre invece io provavo in tutti i modi a fare televisione come se fossi in Rai, come se fossi in Mediaset, capisci? Allora, noi dobbiamo sempre ambire a crescere e migliorarci, che ben vengano quelli più bravi di noi.